ciao ragazzi ci siamo, siamo in diretta saluto gli ultimi arrivati sulla chat Ivano, Michele, Alexandro Marmadu Michele e Michele ancora allora ragazzi questa è la nostra prova tecnica la diretta del mercoledì sera vediamo se funziona tutto se mi sentite se vedete la schermata stiamo per iniziare mandate un ok in chat vedo che qualcuno la sta già mandando lo sta già mandando Michele, Giovanna, Pietro, Jacqueline altro Michele, Livio, Rocchi Sergio, François, Paolo G, Bass Giovanna, Umberto, Anna Ghino Guido, Alexandro eccetera mandatevi pure ragazzi anche se volete provare la chat questo è il momento per mandare un ciao se non avete mai iscritto e volete provare così vediamo se tutto quanto funziona sembra di sì intanto io sto facendo le mie verifiche dalla mia parte sembra tutto posto quindi possiamo entrare in diretta allora devo fare così eccoci eccoci bentornati sul canale youtube associazione culturale Maggiolina dove parliamo di computer in questo periodo di alfabetizzazione digitale in diretta tutti i mercoledì sera alle 18 siamo in diretta a fare due chiacchiere sul computer in particolar modo in queste dirette mi aiutate ultimamente anche con gli argomenti della serata allora come vedete questa sera parliamo di password per principianti parliamo di password cerchiamo di impostare i principianti bene affinché sappiano usarle fin da subito perché dopo è tardi quando ci si comincia a preoccupare male password è già tardi sono già stati fatti disastri allora saluto anche François abbonato da 30 mesi colgo l'occasione per ringraziare tutti gli amici abbonati per il loro sostegno grazie infinite per noi è molto importante ricordo agli amici abbonati che tutte le settimane escono due nuovi video dedicati agli abbonati ma sul canale ce ne sono già tantissimi quindi ci sono anche tutti i video precedenti quindi gli abbonati hanno di che guardare video 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 se vogliono ringrazio tutti gli amici di Super Chat Super Sticker Super Grazie chi ci sostiene anche con altri tramite altri canali perché per noi è altrettanto molto molto importante quindi grazie infinite ragazzi e ringrazio tutti i mi piace tutti gli iscritti al canale perché anche quello per noi è altrettanto importante quindi grazie per essere qui e quindi grazie a tutti in sostanza ragazzi cosa volevo dire stiamo facendo adesso il corso di alfabetizzazione digitale quindi siamo ai primi passi non abbiamo ancora messo granché mano sul nostro computer stiamo facendo diciamo una preparazione quasi verbale prima però sul nostro canale giù in fondo qui c'è il corso di dattilografia no qua in alto dove c'è home corso di dattilografia questo può essere un buon momento per i super principianti per imparare a scrivere dieci dita non è indispensabile però è un grande salto di qualità per chi usa il computer appoggiare le dieci dita è un grande salto di qualità nell'utilizzo del mezzo quindi potreste pensarci dato che nei primi video poi ci dovremo esercitare tra un po' usciranno i video di esercitazione dove mi eserciterò insieme a voi così per farvi compagnia e per farvi esercitare nella maniera giusta questa didattilografia si può fare senza sapere niente del computer ti basta entrare nel sito amici di Maggiolina andare su home corso di dattilografia e cominciare dal numero 1 serve solo calma e pazienza e poi il corso è già completo c'è tutto ci abbiamo impiegato tre anni a farlo e adesso c'è tutto e quindi chi vuole ho visto che già qualcuno ci ha pensato da solo bravi perché è il momento giusto va bene arriviamo arriviamo a noi quindi ci siamo detti parliamo delle password per parlare delle password prendiamo la nostra lavagna condivisa perché dobbiamo prendere anche degli appunti appunti che adesso prenderemo in maniera un po' veloce visto che siamo in diretta ma poi andremo a sistemarli in un video apposito di solito esce il sabato dove faccio un po' un ripasso di tutta la situazione e ripasso e risistemo gli appunti vi ricordo che tutti i video del corso li trovate nel sito amici di Maggiolina quindi qui tutti belli in ordine ci sono qui tutti i video del nostro corso eccolo qui alfabetizzazione digitale ma qui ci sono anche tutti tutte le playlist tutti i gruppi di corsi che abbiamo fatto fino adesso con tutti i video in ordine ma lo trovate anche sul sito associazione culturale maggiolina.it associazione maggiolina.it allo spazio alfabetizzazione digitale qui dentro trovate di nuovo le lezioni del corso in ordine però solo quelle del corso di alfabetizzazione digitale perché il sito amici di Maggiolina è riservato ai nostri sostenitori super chat e quant'altro detto questo possiamo andare avanti quindi siamo qui con la nostra lavagna nuova pagina torno un attimo indietro a pagina 1 perché ci siamo detti allora vabbè invece perché ci siamo detti facciamo un altro discorso ci siamo detti che il nostro computer ci serve per il nostro computer smartphone o tablet perché sono dispositivi digitali anche il televisore se vogliamo ci serve per comunicare condividere elaborare documenti informarci aggiornarci autroistruirci per avere una voce lavoro affari svago divertimento socializzare e creare opere d'arte qui ho scritto male approfittiamo per correggere quindi ho cliccato due volte cancello la e e la metto dall'altra parte creare opere d'arte perfetto allora adesso ci diciamo ma allora se uso il computer per tutte queste cose qui che cosa che cosa ci devo fare allora stavo vedendo di sistemare la chat perfetto che cosa non che cosa ci devo fare che cosa ci sarà dentro questo computer dentro i nostri dispositivi computer e smartphone e tablet cosa ci mettiamo dentro che cosa possono contenere questi dispositivi qui vi invito a scrivermelo in chat c'è già la riga che ha disegnato Andrea grazie Andrea per la riga e così adesso vado a leggere quello che ci mettiamo dentro i nostri computer ci ragioniamo e vediamo che cosa poi facciamo con queste cose quindi cosa dunque devo andare a colore nero così lo vediamo bene cosa contengono uno computer smartphone e tablet punto di domanda questa è la domanda che ci facciamo adesso tra qualche istante dovreste sentire la mia voce arriva con qualche secondo di ritardo e poi potermi rispondere e qui mi annoto quello che mi direte così vediamo a che punto siamo quindi allora tanto saluto Claudia ciao Claudia ciao Francesco Leandro dice ciao Daniele ma anche gli smartwatch possono rientrare nei dispositivi digitali saluti da Firenze sì direi che non ci abbiamo pensato allora gli smartwatch per come li conosco io sta per smartwatch orologio intelligente diciamo che per come li ho visti io sino ad ora e non ho usato i più avanzati sono più dei dispositivi di comando di computer o smartphone generalmente smartphone quindi il tuo telefonino il tuo orologio ti permette di vedere la notifica ti permette di mandare un messaggio ti permette anche magari di rispondere al telefono se il tuo telefono è sparso nella macchina o ce l'hai in tasca perché stai correndo eccetera insomma non ce l'hai sotto mano il cellulare riesce a fare questo però certo mettiamolo dentro nei dispositivi digitali ci sta allora Jacqueline ogni tipo di informazione non troppo personale allora questo del discorso della personalizzazione del fatto che sia personale o no è una sensibilità personale appunto per adesso diciamoci che cosa contengono in termini di informazioni ogni tipo di informazione vediamo un'infinità di dati ok ma se vogliamo sapere di cosa benedetto dice vari tipi di file ok allora dico qualcosa io vediamo se arriva qualcun altro dico qualcosa io in base a quello che mi viene in mente allora ad esempio intanto ho rimpicciolito senza volere la cosa ad esempio nei nostri smartphone ci sono i numeri di telefono numeri di telefono e poi i numeri di telefono è un po' riduttivo perché non ci sono solo quelli delle persone vabbè ci sono i nomi i cognomi allora nomi cognomi cognomi virgola indirizzi indirizzi e-mail e-mail delle persone che conosciamo delle persone che ci interessa vediamo Sergio dice foto video documenti esatto quindi numero di telefono nomi cognomi indirizzi e-mail foto personali o no o delle altre persone che conosciamo eccetera documenti parlando in particolar modo per il computer ma vale per tutto fogli di calcolo quindi conteggi vari di calcolo poi Michele dice documenti foto progetti ci sta progetti di qualsiasi genere dunque Roby non ho potuto un po' leggere e quindi ci sono un po' di cose magari adesso ci verrà in mente anche qualcosa d'altro Maurizio IBAN beh può darsi se vogliamo metterci l'IBAN che so delle aziende con cui collaboriamo in generale il numero di telefono o delle persone che conosciamo numeri di telefono nomi cognomi indirizzi e-mail IBAN eccetera sono contatti si racchiudono all'interno di una categoria che si chiama contatti perché mettiamo il nome il cognome o la regione sociale dell'azienda e poi tutte le informazioni di questa azienda che conosciamo o che ci possono essere utili o di questa persona che conosciamo o che ci possono essere utili quindi direi che queste voci qui le possiamo aggiungere e raggruppare sotto forma di contatti quindi mettiamo nel nostro telefono i contatti allora Anna dice app della banca esatto allora in questo caso non contiene la banca però contiene la possibilità e gli strumenti per raggiungere i nostri soldi quindi per raggiungere la banca quindi app della banca come ha giustamente scritto Anna app della banca perché è una cosa che si utilizza tantissimo poi vediamo lezioni interessantissime grazie show speed poi Sergio dice la tua banca esatto bravo Sergio siete arrivati insieme buonasera a tutti ciao Daniele per Emilio per Attilio grazie Attilio varie app musica ecco anche la musica ad esempio la musica musica video anche di video ne facciamo un sacco ormai di video tutti dentro il nostro telefonino diciamo che queste cose qui stanno quasi tutte dentro al telefono perché ce le abbiamo sempre in tasca con noi però in realtà possono essere contenute anche nel computer possono essere anche sul computer nel senso le posso trasportare posso crearle anche con col computer i motori di ricerca ma è un'altra cosa non sono informazioni che ci sono nel nostro computer ma le troviamo nel web quindi non mi sento di dire che è una cosa che ci mettiamo dentro li raggiungiamo sicuramente i motori di ricerca per noi sono molto importanti però queste sono cose che noi abbiamo dentro il nostro telefono dentro il nostro computer e basta c'è qualcun altro a cui viene in mente dove queste cose possono stare i contatti le foto i documenti fogli di calcolo rientra un po' in documenti se vogliamo progetti l'app della banca ok questa è proprio specifica del telefonino mentre sul computer ci arriviamo direttamente navigando in internet però è giusto perché è un'informazione diciamo che ci interessa la musica e il video quindi spostando l'app della banca sotto foto documenti musica e video dove possono stare anche ecco qua che arrivano le prime risposte allora poi Michele dice anche app per la domotica giusto ci sta per comandare la nostra casa allora assegnamolo allora domotica nostra casa o quella che ci viene in mente domotica sebastiana ok motore di ricerca l'abbiamo visti nell'archivio questa di francesca è interessante l'archivio lo mettiamo qua da una parte perché entrerà in gioco in un secondo momento è giusto e Sergio dice la nuvola ah ecco Jacqueline anche le email quindi email 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 inteso come messaggi quindi mettiamo messaggi perché chattiamo quindi nel nostro telefono ma anche sul computer volendo abbiamo conversazioni per iscritto con le persone contenuto di conversazioni vediamo cosa dice Massimo documenti sanitari l'identità digitale dice Anto allora documenti sanitari identità digitale digitale poi appunti assolutamente appunti di Benedetto Michele dice devo uscire ok ciao Michele ci vediamo alla prossima oppure guardi la registrata quindi direi che abbiamo fatto un bel una bella raccolta di cose e sicuramente tante altre cose non ci vengono in mente al momento ma ci stanno adesso non ci sto neanche qui comunque ok dai lo mettiamo qua tanto poi gli appunti poi li sistimerò in un secondo momento satellitare ok non è tanto un contenuto ma effettivamente la posizione satellitare è una cosa che ci interessa ok e quindi nonostante Jacqueline abbia centrato il punto in partenza che ha detto perché ha detto documenti informazioni non troppo personali in realtà nei nostri smartphone nei nostri tablet nei nostri cellulari eccetera nei nostri dispositivi volenti o nolenti abbiamo dentro un sacco di informazioni personali perché anche i contatti quindi i nomi e i cognomi di tutte le persone che conosciamo tra queste ci sono dei familiari i contatti pensiamo alla messaggistica a tutti i messaggi che ci mandiamo pertanto che uno cerchi di rimanere sul non personale i nostri dispositivi informatici dicono tanto di noi ma tanto proprio di noi e quindi diciamo che se vanno in mano a persone sbagliate ma neanche esageratamente sbagliate se vanno in mano a qualcun altro che decide di usarlo in maniera diciamo non simpatica per noi raggiungiamo mettiamo dentro il termine così non simpatica ci sono dei problemi intanto vedo anche app antifurto eccetera con la sim sanno già tutto dice Michele questo qui è un altro discorso ancora quindi tornando a noi visto che nei nostri telefoni e nei nostri tablet e nei nostri computer volenti e nolenti ci sono informazioni che ci sono importanti per noi quindi ci importa di queste informazioni cosa dobbiamo fare per proteggerli come vengono protetti questi dispositivi quindi subito ancora prima che noi cominciamo a usarli questi dispositivi sono protetti da cosa vediamo se adesso me lo scrivete ovviamente il tema della serata è abbastanza esplicito su questo e quindi volevo prima che noi cominciassimo a mettere mano ai nostri dispositivi ecco qua che il primo a dirlo è Ivano dalle password poi anche Benedetto dice le password quindi le password parola chiave come dire password parola chiave Jacqueline password ok il fatto che tutti questi dispositivi contengano delle cose importanti per noi ha reso necessario l'utilizzo di una chiave di una password o una parola chiave che permetta solo a noi di sbloccare il dispositivo per vedere cosa c'è dentro sia che sia il computer sia che sia un tablet sia che sia un cellulare quindi prendiamo coscienza dell'esistenza delle password lo so che tutti ne sono a conoscenza un principiante prende in mano c'è la password la digita eccetera ma questa password perché c'è perché qualcuno ce l'ha messa per conto tuo e quindi magari non l'hai scelta tu eccetera eccetera e poi non hai ben chiaro l'importanza di questa cosa perché le password le troveremo infinite volte nei nostri dispositivi e diciamo che al momento sono un problema sono un problema perché dobbiamo saperle gestire vedo dalle novità diciamo che continuano a uscire su internet e quindi delle nuove funzioni che cercano di aiutarci nel gestire le nostre password però c'è bisogno che noi abbiamo coscienza di questa cosa e che le sappiamo gestire allora vorrei farvi vedere una cosa quindi tanto scriviamo password qua perché dobbiamo dirci alcune cose sulle password password quindi manca la d password per cui noi abbiamo la nostra password ce l'avete la password nel computer in accesso del computer si andiamo a vederla io ho preparato qui il computer vediamo se me la mostra io adesso spengo questo computer qua mi sono dimenticato di spegnerlo prima di partire con la diretta allora dico disconnetti non me lo fa fare a retta il sistema arrivi al sistema schiaccio qua disconnetti allora io sono qui con il mio computer ok e il mio computer adesso dato che mi sono alzato ipoteticamente per andare a bere il caffè è protetto da una password come il vostro e quindi prima di alzarmi l'ho disconnesso sono uscito dalla mia attività nel computer adesso il computer è così quindi tutte le volte che noi accendiamo il computer un computer qualsiasi c'è una password in passato non c'era sempre perché danno un po' fastidio queste password in realtà adesso strada facendo ci stanno obbligando a metterle perché ci facciamo un danno grande se non non abbiamo questa protezione allora clicco in qualsiasi punto e scopro che su questo computer c'è un pin quindi abbiamo appena finito di parlare di password fino adesso e questo è un pin che cosa che differenza c'è tra pin e password il pin è un codice numerico sono solo numeri la password vera e propria è alfanumerica numeri e lettere che possono anche essere maiuscole o minuscole quindi in questo caso ho scelto per il mio computer il pin perché è più pratico una sequenza di di numeri per poter accedere quindi per poter usare questo computer serve inserire un pin che presumibilmente conosco solo io ma un'altra cosa che possiamo notare da questa schermata è che qui sotto ci sono due nomi c'è rubino felino questo e c'è elettronica se ci premo sopra qui cambia diventa elettronica e c'è di nuovo il pin cosa vuol dire? vuol dire che questo computer può essere usato da due persone diverse ok? quindi un singolo computer può essere utilizzato da più persone volendo se è solo mio lo uso solo io e ci sarà un nome solo se siamo in due e il computer è di casa e qui a casa lo attiviamo per due persone diverse qui adesso io per esempio rubino felino e elettronica ognuno dei due ha il proprio pin sceglie il proprio nome e poi digita il pin per accedervi e a quel punto entra nel computer quindi io adesso digito il pin e entro nel computer perché ho messo la mia chiave sono entrato nel mio computer e quindi adesso lui fa un po' di cose mi riconosce sono entrato questi due nomi hanno un nome cioè questa cosa dell'accedere si chiama account nel senso che in questo computer ci sono due account abilitati all'accesso del computer stesso due nomi li chiamiamo nomi ma sono due registrazioni quindi due persone chiamiamo le persone ma in realtà non è così perché ad esempio elettronica può essere un gruppo di persone che so questo computer è in ufficio e tutti quelli del reparto elettronica hanno il loro pin e possono entrare in quel momento lì qui adesso il mio computer mi chiede delle cose perché è stato aggiornato poco fa e quindi ci sono delle cose che devo dire quindi adesso io sono entrato col mio nome con Rubino Felino con il mio pin e sono questa persona qui non posso entrare nell'area dell'altra persona perché non conosco il pin quindi la password in questo caso il pin ci serve per far sì che i nostri documenti personali o non che siano siano protetti perché io magari nel computer non ci tengo niente a di personale non c'è niente però chi ci entra ci entra nome mio se manda un'email la manda nome mio e quindi può fare disastri lo stesso anche se non ci sono cose che può vedere di mio può impersonarmi sui social può impersonarmi quando sull'app della banca può impersonarmi mandando messaggi eccetera quindi è un danno per cui ragazzi ricordiamoci che le password non sono un nostro nemico ma caspita non me la ricordo ma uff ancora devo inserire questa password eccetera no sono una protezione del resto avete la chiave per entrare in casa avete la chiave dell'auto eccetera e quindi quello serve per garantirvi il diritto alla vostra privacy e all'utilizzo del vostro strumento quindi password sempre sul computer si mette sempre ma quello vi obbligano sullo smartphone anche si mette anche se non è obbligatorio è la stessa è la stessa cosa anche sullo smartphone c'è questa cosa magari facciamo un salto allora il computer questo lo spengo e lo lasciamo stare così alleggerisco il mio la mia postazione qui intanto saluto Orazia grazie infinite Orazia per l'uso della super chat grazie 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 e adesso vediamo un tablet e magari vediamo un cellulare anche che hanno questa cosa qui di accesso su cui dobbiamo andare ad agire una cosa importante quindi abbiamo visto che la password ci serve ok però per accedere in un luogo nella maggior parte delle volte non basta la password serve anche il nome della persona noi adesso abbiamo avuto bisogno di entrare come Rubino Felino c'era già scritto a posto e ho messo il pin di Rubino Felino ma se entravo con elettronica dovevo sapere il pin di elettronica e dovevo dare il nome elettronica dovevo pigiare il nome elettronica perché qui era scritto ma in tanti posti ti devi identificare quindi devi scrivere o avere entrambi per vedere le varie situazioni prima abbiamo detto che tutti questi dati personali possono essere anche sulla nuvola ve l'ho chiesto poi non mi ricordo se l'ho puntualizzato bene qualcuno l'ha scritto quindi ste foto ste video queste cose io ce le ho nel telefonino ce le ho nel computer o ce le ho sulla nuvola la nuvola non è sotto il mio controllo è un'area che io raggiungo tramite il computer e tramite lo smartphone ma è là chiunque può raggiungere la nuvola è una nuvola di tutti se vogliamo però ognuno apre il suo cassettino sulla nuvola con il nome dell'account e con la password dedicata in questo momento questa lavagna che io sto usando è sulla nuvola perché così posso condividerla con voi io per accedervi devo aver dato un account eccolo qua questo è il mio account questo maggiolina test chiocciola gmail.com è il nome della persona accreditata ad accedere a questa nuvola e la password invece ovviamente la so solo io e quindi entro con questa password qui quindi focalizziamoci sul fatto che sono due le cose che ci servono il nome dell'account e la password o il pin se nel caso del computer o dello smartphone magari c'è il pin per semplificare le cose oppure c'è l'impronta digitale anche sui computer ci sono le impronte digitali oppure c'è lo sblocco facciale cioè il computer o il tablet o lo smartphone ti riconosce perché ti vede e allora entri quelle sono tutte facilitazioni la password sarebbe la roba la cosa più sicura per essere tranquilli in tal senso quindi noi abbiamo bisogno di ricordarci delle cose allora e queste cose sono queste le scriviamo perché così ne prendiamo coscienza vediamo se ci riesco allora le cose relative alla password noi abbiamo bisogno della password sì però in realtà abbiamo bisogno di sapere dove va messa una determinata password nel senso che questa è la nuvola di google dove io ho la mia lavagna quindi devo sapere che devo andare sulla nuvola di google quindi la lavagna è sulla nuvola di google quindi la prima cosa che devo sapere è nuvola di google se voglio la lavagna mi serve anche sapere dove va questa questa lavagna e dov'è nuvola di google volevamo un po' più piccolino magari vediamo se si può rimpicciolire un po' c'è già scritto ok normale così esagerato normale quindi devo sapere tre cose dove devo mettere questa password dove è l'informazione ecco è più giusto dire dove è l'informazione sulla nuvola di google benissimo vado sulla nuvola di google e devo dirgli il nome dell'account devo dirgli chi sono io voglio entrare nella nuvola ok ma chi sei e quindi devo dirgli il nome dell'account nome account e in questo caso è maggiolina test chiocciolagmail.com ma potrebbe anche non essere così semplice già che non è semplicissimo o potrei non ricordarmi se va tutto in maiuscolo se va in minuscolo se c'è un punto se c'è un qualcosa se non è perfetto voi non ne accedete quindi dovete identificarvi con il vostro nome poi dovete anche fornire la password e quindi dovete andare a scrivere il vostro la vostra password oppure pin oppure impronta oppure sblocco facciale quindi farvi vedere in faccia vediamo se me lo scrive sblocco facciale quindi sono tre le cose che vanno sempre diciamo organizzate il luogo dove va messa questa password devo sapere dove trovare l'informazione il nome dell'account che si scrive con la T account e poi la password o il pin o l'impronta quello che è attenzione che la password ok può essere usata insieme all'impronta o insieme allo sblocco facciale quindi potrei avere tre modi diversi per accedere e basta che io ne sappia uno in quel momento lì e quindi sono tre cose che dobbiamo registrare le password quindi possono diventare tante perché se io ho tante informazioni vabbè adesso lo smartphone ok il computer ok il tablet ok sono già tre voci poi i dati della banca 4 la nuvola di google 5 le email magari 6 eccetera so che io sono penso tra i 200 e i 300 le 300 voci e quindi mi dico ma sono furbo e uso sempre la stessa password facile magari la mia data di nascita oppure il mio nome Daniele la mia password aspetta me lo ricordo Daniele non va bene non va bene un no una password troppo facile perché come ti chiami lo sanno tutti qual è la tua squadra del cuore lo sanno tutti la tua data di nascita è troppo facile da trovare il nome del tuo cane non ne parliamo cos'altro c'è la data del matrimonio vabbè quella magari i mariti fanno un po' più fatica ma gli altri fanno presto a trovare la data del tuo matrimonio eccetera eccetera quindi password troppo semplici rendono troppo complicato rendono troppo facile scusate il lavoro di chi vuole conoscere i vostri dati che non sempre è il malintenzionato lontano super mega esperto di computer tante volte le cose sono anche più vicine quindi la password deve essere una cosa che conoscete solo voi deve essere complicata da scrivere e hanno hanno fatto in modo che siano complicate perché le persone non gli davano importante qual è la password usata più comunemente password letteralmente la parola password e quindi se una persona vuole entrare in un profilo in qualche zona di qualcun altro prova con password poi prova con il suo nome poi prova con il nome del suo cane poi prova con la sua data di nascita e finché arriva in sostanza quindi deve essere resa difficile per questo adesso quando vi chiedono la password vi chiedono che ci sia una maiuscola va bene dai daniele con la d maiuscola vi chiedono che ci sia una minuscola almeno ok non devo scrivere tutto in grande quindi vabbè lo scriverò normale vi chiedono che ci sia un numero ah caspita allora dai daniele ci metto la data di nascita in fondo come la ricordo non va bene troppo facile la password ha le caratteristiche ma è troppo facile poi ci vuole un carattere speciale una chiocciola un punto esclamativo un qualcosa di strano e quindi già devi mettere quello perché continuano a complicarle queste password perché noi le facciamo troppo facili e quindi la password è complicata e quindi dobbiamo scrivercela quindi diamoci subito il compito di avere un elenco da qualche parte unico per tutte che contenga dove va messa questa password il nome dell'account anche magari se non serve qui adesso per accedere al computer Rubino Felino non serve ma ce lo scrivo la password e quindi bella in chiaro scritta in maniera ordinata maiuscole minuscole eccetera con una bella calligrafia che si capisca questo va scritto sempre ci si accorge troppo tardi di questa cosa e ci sono un sacco di persone che poi vanno in giro disperate a chiedere la password di una cosa o dell'altra il pin eccetera azzeralo eccetera immaginati di perdere il pin della banca perdi anche una giornata ad andare in banca a farlo azzerare a chiedere eccetera 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 un sacco di scocciature quindi è molto è molto importante questa cosa stanno trovando sistemi facilitati per evitarti di scrivere la password ma facilitato a volte abbiamo visto che sono significa meno opzioni in questo caso anche meno controllo quindi il controllo che puoi avere tu e avere scritto tutte queste informazioni così sei tranquillo di gestirle bene e comincia da subito perché il telefonino che ti ha dato in mano tuo figlio è già a posto è già stato impostato eccetera ci ha messo dentro a lui la password non è stato a chiederti tante cose perché non voleva star lì a perdere tempo eccetera nel dialogare con te di una cosa che magari non conosce te l'ha dato ti ha detto per aprirlo devi schiacciare 1, 5, 7, 8 e tu dici ma caspita ma sta cosa qua tutte le volte perché perché è stato impostato in maniera intelligente molte persone vanno in giro col telefonino senza password non si fa perché quando lo perdi ti accorgi subito del danno che hai fatto e quindi questa è la prima cosa da fare avere un libricino avere un qualcosa poi vedremo magari come scriverlo in maniera digitale quando saremmo sapremo usare il computer ma ci si sempre quando tu accedi da qualche parte chiediti ma intanto segnati dove sono quindi dove sono entrato ma qual è il nome del mio account ma qual è la mia password se la sai bene se non la sai cercherai di scoprirla senza impazzire troppo nel senso che un po' alla volta impareremo però fai in modo di segnarti sempre le cose anche se te la ricordi beh ma è il nome di mio nipote più la data di nascita di mia moglie più la chiocciola e l'iniziale del gatto ma è facile me la ricordo me la ricordo per 5 minuti te la ricordi te lo garantisco dopo 5 minuti non te la ricordi più e questo vale per tutti quindi te la scrivi hai 5 minuti di tempo per scrivertela da qualche parte in modo da potertela effettivamente ricordare tutte uguali? no le password non tutte uguali perché se tu ne usi una per tutto a posto una volta che tu le dici una a qualcuno a casa dai senti entra nel computer è troppo facile trovata una poi la si usa da tutte le parti e quindi non va bene avere una password multipla è più facile ma è più facile anche per gli altri poi entrare da tutte le parti e quindi le password devono essere tutte diverse allora adesso lo so che tu ti dici caspita ma io l'ho usata qui l'ho usata là eccetera ormai pazienza un po' alla volta con tempo quando sarai pratico bene cambierai le password altrove mi raccomando questa cosa perché a tutti poi viene in mente dire no aspetta che cambio quella password e poi se non sei capace non è difficile ma se non sei capace non hai bene la praticità poi non riesci più a entrare perché hai sbagliato qualcosa quindi è meglio che la situazione rimanga così per adesso prendi coscienza comincia a sapere che ci sono queste cose delle password e quindi è così altra cosa importante se tu accedi in aree particolarmente diciamo personali tipo al tuo fascicolo sanitario perché devi scaricare una ricetta perché devi prenotare una visita perché devi vedere gli esami del sangue che hai fatto ti dicono vai qui e li apri ok ti accorgerai che ti servirà il nome del posto dove andare a vedere ti servirà il nome dell'account quindi può essere un numero può essere qualcosa d'altro può essere poi ti servirà una password un pin eccetera e poi tante volte ti servirà un qualche dispositivo accessorio una una verifica in due passaggi si chiama quindi un terzo livello di autenticazione o un secondo livello di autenticazione nel senso che hanno visto che nome account e password è poco per tenere fuori le persone più esperte quindi ti danno un qualcosa di variabile dopo che tu hai azzeccato il nome e la password ti hai azzeccati perché li hai scritti e sei stato bravo sul tuo telefonino viene fuori un codice un codice che dura magari un minuto poi cambia in questo modo solo tu col tuo telefonino presumibilmente insomma è ragionevole pensare così solo tu che hai in mano quel telefonino lì puoi vedere il codice e puoi scriverlo come nuovo livello di autenticazione e andare avanti e quella cosa non dipende da te quel numero lì non serve che tu te lo scrive e niente quando la banca quando che so l'accesso al fascicolo sanitario eccetera ti è stato dato ti hanno chiesto il numero di telefono tu gliele hai dato e adesso in funzione di quella cosa lì ti salta fuori il messaggino ti arriva il messaggino eccetera o l'email e quindi tu puoi autenticarti avendo un livello di sicurezza in più perché quei dati sono importanti trovo spesso persone che mi scrivono caspita ma che complicato entrare nello speed ma insomma io avrei fatto meglio e certo però ragazzi serve per garantirsi una sicurezza di accesso perché è veramente importante nel senso che lì ci sono informazioni importanti si parla poi di identità eccetera eccetera ma anche solo l'account di facebook dove dici ma ci scrivo tu ci scrivo su tre sciocchezze è importantissimo perché poi quello diciamo è frutto di quello in genere è soggetto ad attacchi perché poi ti impersonano e quelle tre sciocchezze offensive per alcuni tuoi amici ti fanno un danno veramente importante quindi non sottovalutiamo il discorso della sicurezza e soprattutto cerchiamo di capirne l'importanza e di adeguarci senza lamentarci troppo ecco vedo Gianluca mi viene l'occhio su questa cosa qua e dice OTP si chiama one time password quindi un codice usa e getta che ti arriva sul telefonino o via email vale una volta sola e vale in un periodo limitato di tempo quindi tu devi sapere dove vuoi andare devi sapere il nome dell'account quindi devi dire chi sei il nome che hai scelto tu o che hanno scelto loro per te poi devi digitare la tua password o il tuo pin o l'impronta se usa il telefonino lo sblocco facciale magari se usa il telefonino dopodiché a volte non è finita e c'è un ulteriore livello di protezione che di solito è svolto con uno strumento io ad esempio per il mio account google ho anche questa cosa qui che mi hanno dato a suo tempo in google proprio una chiavetta invece posso fare col telefonino caspita mi è caduta adesso posso fare col telefonino ma posso usare anche una chiavetta quindi io se ho questa con me la infilo nel mio computer come terzo livello di autenticazione e a quel punto lì dico che sono io è ragionevole pensare che sia io ti segnalo e te lo dico adesso perché mi viene in mente adesso e mai nel momento giusto nei giorni precedenti a feste abbastanza lunghe natale capodanno quindi le vacanze dell'epifania eccetera prima di pasqua eccetera eccetera avvengono spesso furti di identità eccetera i vari social gli account delle nuvole eccetera eccetera perché questo perché poi in quei giorni lì l'assistenza dall'altra parte l'assistenza di facebook l'assistenza di google eccetera magari non è presente non è facilmente raggiungibile perché è natale anche per loro eccetera e quindi hanno più tempo per lavorare sulle vostre cose poi magari vi mollano cioè non è che poi mi prendo il nome di Daniele Castelletti sul facebook e poi faccio lui per tutto il tempo no vi prendono per un po' vi danneggiano in qualche maniera chiedono soldi a vostri amici dicendo che sei in difficoltà che guarda se hanno bloccato a Londra mi hanno rubato ho perso mandami qualche cosa per favore e raccolgono un po' di soldi e poi ciao fine del discorso però non si fa una bella figura non è una bella situazione eccetera eccetera ci si cade tutti in questi tranelli qui quindi attenzione ragazzi che può succedere a tutti non c'è da da farsene una malattia può succedere a tutti a tutti tutti me compreso quindi prendiamola così come viene stiamo un po' attenti attenzione che questi questi dati a volte ve li chiedono cioè ti mandano un messaggio su whatsapp e ti dicono guarda che hai ricevuto un numero perché mi sono sbagliato dovevo mandarlo a un mio amico ho sbagliato il numero e te l'ho mandato a te me lo riscrivi per favore quel numero lì ecco lì ti stanno rubando il tuo account whatsapp loro hanno scoperto la tua password eccetera whatsapp ti ha mandato il numero per sapere se sei veramente tu quindi tu vedi quel numero lì e dici boh non so cosa mi serve poi dopo ti scrive quell'altro sconosciuto che ti dice ma guarda per favore fammi cosa guarda ho sbagliato un codice e ti è arrivato un numero mio me lo giri ecco girandogli quel numero lì tu gli hai dato il terzo livello di sblocco quindi loro hanno già saputo il nome dell'account hanno già saputo la password per qualche motivo e quel numero che è arrivato a te era il terzo livello di sicurezza se tu lo passi a qualcun altro ti sei già diciamo auto aperto il tuo profilo e quindi le altre persone la prende non sei più tu e ci si cade in queste cose qui quindi attenzione a queste cose allora dato che siamo qui diamo un'occhiata un po' anche ai nostri dispositivi quindi io ad esempio ho il mio tablet collegato quindi adesso vado ad aprire il mio tablet vediamo se riesco eccolo qua dovrebbe aprirsi ok questo è il mio tablet lo tengo in verticale ma è lui allora ti faccio notare che adesso è bloccato vedi che c'è il lucchetto se io ci metto su le mani lui vuole il pin e quindi io devo poterlo usare il tablet in quanto strumento grande può essere personale ma può essere anche di famiglia posso dire ragazzi abbiamo il tablet chi quella sera lì lo prende per primo si guarda i film fa le sue cose eccetera quindi può essere personalizzato nel senso che lo possiamo usare in più persone quindi anche sul tablet ci sono gli utenti Daniele Miki Maggiolina Test quindi io dico ok lo uso io stasera oppure lo prendo e basta sono Maggiolina Test ci premo sopra il tablet mi identifica come Maggiolina Test perché gli ho dato io il nome e adesso lo sblocco quindi mi chiede il pin lì non si vede ma qui a me lo chiede chiede il numero non lo fa vedere perché così non lo vedete neanche voi quindi per privacy non lo mostra adesso vado a metterlo questo questo pin allora e poi accedo l'ho rimpicciolito così ho mantenuto la privacy ulteriormente e poi accedo nel mio al mio tablet torniamo in orizzontale anche piccolino che è diventato vediamo se posso ingrandirlo facciamo così vediamo vabbè dai lo teniamo così com'è questo è il mio tablet adesso è bloccato devo risbloccarlo di nuovo e lo faccio velocemente ok e dov'è eccolo qua quindi io sono nel mio tablet va bene noi adesso abbiamo capito il discorso della password e siamo consapevoli di questa cosa e ci diciamo va bene ne ho preso coscienza intanto saluto Maria Teresa grazie infinite per l'uso della super chat grazie 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 ma se io dovessi mettere la password a questo tablet perché ma non ce l'ho è la prima volta che sentivo questo discorso è il mio telefonino o il mio tablet non hanno la password come lo mettiamo cosa facciamo per quello che abbiamo imparato fino adesso potrebbe venirci in mente che ci siamo detti e poi rispondo alle domande vedo che ce ne sono diverse ci siamo detti ma qualsiasi volta che noi dobbiamo fare una personalizzazione a una qualsiasi dispositivo digitale che usiamo dove andiamo provate a rispondervi a alta voce dove vado per fare un'impostazione o una personalizzazione vado in impostazioni siamo d'accordo quindi la password può essere considerata una personalizzazione sì è una personalizzazione per cui adesso io vado a cercare le impostazioni faccio scorrere cerco le impostazioni eccole qua e da qualche parte dentro impostazioni ci sarà un qualcosa che mi dice la password allora io ormai so per esperienza che dovrebbe essere dentro display non sono così sicuro potrebbe anche essere dentro sicurezza blocco schermo prova il mio dispositivo sicurezza delle app proverei sicurezza visto che la password è una funzione di sicurezza premo vediamo se trovo qualcosa blocco schermo pin al momento infatti io ho il pin qui c'è anche blocco sblocco con il volto tocca per configurare il volto al momento lui non mi ha non ho mai usato il il volto per sbloccare allora crittografia eccetera proviamo dico dai senti tablet sbloccami con il volto ok quindi io dico sblocco con il volto lui mi dovrebbe inquadrare vediamo se ce la fa a inquadrarmi ah no intanto a voi non mostra niente ma a me lo mostra ti dice senti va bene tu vuoi sbloccarti con il volto quindi vuoi che io ti riconosca voglio essere sicuro che tu sia la persona proprietaria di questo tablet qua perché tu stai inserendo una funzione di sblocco quindi sai il pin dato che per sbloccare questo tablet ci vuole il pin lo sai così magari poi registro il tuo volto perché se tu non sai il pin e io registro il tuo volto allora aggiri la sicurezza quindi devo mettere il pin lo sto scrivendo do l'ok ho sbagliato adesso l'ho scritto giusto ok e adesso voglio sbloccare con il volto vediamo cosa devo fare sblocca con il volto e lui mi dice qui occhiali occhi eccetera provo a dire altro non vedo niente altro no grazie accetto vabbè accetto vediamo cosa succede come configurare lo sblocco con il volto usa configurazione accessibilità allora io non l'ho mai fatto su questo telefonino qua su questo tablet qua quindi sto leggendo dobbiamo semplicemente come dicevamo all'inizio usare un po' di flessibilità va bene dai dico inizia notare che mi sono tolto gli occhiali sia da sopra la testa che in viso quindi devo avere la configurazione che utilizzo di solito vediamo cosa dice io adesso non leggo perché non ho gli occhiali vediamo cosa dice sotto mi servono gli occhiali per vedere allora aspettate teniamolo così lui mi dice sposta il viso davanti al telefono ok allora vado più vicino ancora non succede niente vediamo sposta il telefono più in basso sposta il telefono è un tablet ma lui lo vede come un telefono più in basso eh ragazzi più in basso di così ok forse ce l'abbiamo fatta fatto tutto ok perfetto dico fine e adesso dovrei avere lo sblocco con il volto vediamo se è vero quindi adesso io blocco il mio telefono lo sblocco quindi premo il tasto di accensione e poi mi inquadro quindi me lo metto davanti e lui dovrebbe riconoscermi dice non riconosciuto perché abbiamo visto che con le luci e tutto quanto continuo a non riconoscermi e vabbè pazienza devo un attimo avere l'aspetto giusto quindi magari qui in diretta sotto le luci non riesco a avere la cosa giusta per fortuna posso far scorrere e ah alla fine poi mi ha riconosciuto alla fine ce l'avevo qui ho fatto scorrere e mi ha riconosciuto proviamo di nuovo perché magari ho sbagliato io quindi voglio sbloccarlo forse devo far scorrere no non l'ho fatto in tempo mi ha riconosciuto probabilmente devo guardarlo magari quindi ce l'ho qui lo sblocco e infatti mi riconosce proviamo ancora una volta quindi lui è così e non si sblocca poi io lo guardo e adesso perché ho detto che funziona non funziona mica vediamo provo a fare scorrere e adesso mi ha riconosciuto quindi o devo far scorrere o comunque devo guardarlo subito secondo me se lo faccio subito cioè se lo sblocco e lo sto guardando si sblocca se invece comincio a inquadrare in giro devo far scorrere e allora lui mi guarda di nuovo e mi riconosce quindi abbiamo visto lo sblocco con il volto tanto per dire caspita siamo arrivati avanti con il tempo ci fermiamo qua ma nel senso smetto di parlare io e vado a leggere i vostri messaggi perché così almeno abbiamo un po' più di tempo quindi dicevo mi sono tolto gli occhiali perché altrimenti poi lui mi riconosce con questi occhiali qui se invece io ad esempio il tablet lo uso a letto con gli occhiali che ho là perché ne ho vari e quindi dovrei fare lo sblocco con il volto con gli occhiali che indosso in quel momento lì quando uso il tablet se lo uso con gli occhiali dovrei fare lo sblocco con il volto in quella maniera lì in modo da non dover ricordarmi di togliermi gli occhiali eccetera no sopra la testa tirali via e tutti questi discorsi qua ma posso anche fare il pin come abbiamo visto allora andiamo a vedere che cosa mi avete detto qui intanto c'è la prima riga che era stata disegnata vado a leggere velocemente ciao Anna Daniele dopo tanto tempo a seguirti grande Maurizio dice ciao Daniele abbiamo chattato pochi minuti fa tutto ok perfetto Maurizio grande ti ho mandato il messaggio di accesso al sito amici di Maggiolina quindi tutto posto Ieni o Leni scusami dice ciao seconda volta che mi collego mi è piaciuta la prima e quindi ci riprovo grande Alfredo Daniele buonasera a tutti poi Claudia mi saluta ciao buonasera da Francesco Leandro dice ciao Daniele ma anche gli smartwatch ok l'abbiamo letto questo ciao Michele Jacqueline allora andiamo avanti a trovare i messaggi nuovi e adesso ci arriviamo e Michele dice scusami ok qui ci eravamo arrivati la password stavate dicendolo password grazie per i complimenti il video è fuori fuoco dipende dalla linea del telefono a volte la linea del telefono la mia o la tua rallenta e il video si sfoca per non bloccarsi ormai ti si sarà già rimesso ti si sarà già rimesso a posto poi Renata ciao Renata Rocky dice pin oppure impronta digitale esatto avendo spostato la pagina dell'info sei diventato sfocato Daniele dice Jacqueline ma vedrete che poi si è sistemato anche il mio video è sfocato video sfocato ok quindi in diversi vi avevate sfocato allora sono appena arrivata il video è sfocato ok conosco tante persone che usano la stessa password per tutto io faccio notare che non è prudente ma non mi ascoltano ma quello è normalissimo infatti io lo dico continuamente so che va un po' persa questo discorso stavolta ho voluto dirlo all'inizio del corso tanto che siamo qui e dobbiamo ancora mettere mano al nostro computer abbiamo coscienza di queste password almeno che non ci troviamo dopo sei mesi a dire ma adesso io non so la password della mia nuvola come faccio quello è un problema allora Anto dice si vede benissimo andate su impostazioni nella rotellina a regolare la qualità del video oppure avete una connessione lenta può succedere che anche sia stata lenta la mia al momento allora Dario dice a causa di un aggiornamento di Windows i driver della mia stampante Samsung sono stati cancellati come posso fare complemente per la trasmissione saluti Dario Dario andavano salvati prima c'è il video in cui mostro come salvare i driver io lo sto facendo in questo momento tasto destro esegui come amministratore dico di sì a quella schermata che per voi era vuo era nera e il mio computer salva i driver li mette da parte se succede qualcosa tramite aggiornamento io posso recuperarli c'è il video lo trovi tranquillamente sul canale salva i driver tutte le volte che puoi una cosa del genere fai in quella maniera lì adesso non ce li hai è tardi devi cercarli su internet se li trovi perché spesso non esistono più i propri suoi o non sono facili da trovare l'unica cosa che puoi fare adesso è cercarli se li troverai salvali anche quando non ti serve qui sono stati salvati tutti in questo momento ed è stata archiviata quella cosa sotto una data e quindi io sono a posto Veronica dice io ho il pin e tutti e due su tutti e due i miei pc brava Veronica Michele regolate la connessione su automatico sta gestendo il discorso dello sfocato Pietro ciao Daniele buona serata a tutti Daniele ieri mi sono arrivati gli aggiornamenti e ora mi è sparito il touchpad sono disperato dammi un suggerimento non ho la minima idea Pietro dovrei vedere un pochino per capire ma senza vedere non ho proprio la possibilità ciao ciao Razia Jacqueline saluta Antonella Patrizia dice io sono già su automatico e a volte è proprio l'automatico della trasmissione dati che vi gestisce il rallentamento ma vi sfoca i dati magari andate e scegliete un numero tipo 480 che magari vi dà una visione migliore rispetto a quella dell'automatico allora va bene l'ho sfocato ecco Laura dice grazie Michele per la dritta sono uscita e rientrata video perfetto rollino full anch'io vedo sfocato ma ormai sapete già come funziona Giovanna sono riuscita e rientrata ed ora è tutto a posto non è più sfocato Barbara date retta a Michele uscita e rientrata e funziona Michele dice provate a uscire e rientrare ok collegamento interrotto sei offline ho fatto come ha detto Antonella risolto il problema probabilmente c'è stato un momento di linea comunque complicata perché tutti quanti avete avuto quel problema lì quindi sarà stato un problema mio sappiate che si rivede tutto dopo nel senso che la registrazione sarà a fuoco e quindi potrete vederla le mie password sono talmente ingarbugliate che mi è praticamente impossibile ricordare inserisco sempre parole inventate ed è giusto così e le email me le annoto sempre e le mail me le annoto sempre Michele Daniele hai pienamente ragione le password vanno scritte subito a me è stata chiesta anche la parola d'ordine sì ci sta volevo chiedere per la PEC è meglio Aruba o Poste non lo so Rollino Full perché le ho usate entrambe io non ho la PEC non ce l'ho più ho avuto per un periodo quella gratuita quando la davano gratuitamente i miei servizi digitali ce li ho su Aruba che mi trovo bene però magari funziona bene neanche Poste quindi non so darti un consiglio su Aruba mi trovo bene poi il resto non so dire e non ho neanche sentito parlare male quella chiavetta in base a quali criteri va scelta ci sono vari prezzi eccetera sì se provate a cercare chiavette di sicurezza token di sicurezza anche sui social cioè sui social su internet Amazon posti così trovate un po' di tutto non so darvi niente di specifico me l'hanno regalata una volta a un corso sulla sicurezza e l'ho usata così insomma però non è che sia un esperto in questo poi Francesca dice io che ho eseguito la verifica in due passaggi su Whatsapp mi protegge dal furto del mio account assolutamente sì dove adesso assolutamente sì Francesca ed è quella cosa che ho detto poi in seguito del codice se ti mandano un codice su Whatsapp non darlo a nessuno perché è proprio quello che ti protegge nel senso che se vi arriva il codice e voi non l'avete chiesto vuol dire che qualcun altro ha azzeccato nome utente e password e sta provando ad entrare in quel caso sarebbe una buona cosa con calma e se lo sapete fare cambiare la password perché è stata trovata se vi è arrivato il codice vuol dire che qualcuno lo ha richiesto avendo inserito nome utente e password quindi io di solito a quel punto vado e cambio la password però dobbiamo essere certi di saperlo fare se non basta non fare niente non rispondere non cliccare non mandare messaggi a chi che sia riguardo a quella cosa lì soprattutto non cliccare eventuali messaggi che vi mandano dopo perché potrebbe essere lì che vi ingannano in sostanza quindi non fare niente paga a quel punto di vista lì allora poi Lido manda il suo abbonamento si è abbonato grazie infinite Lido benvenuto gli amici delle super chat i nuovi abbonati eccetera passino sul sito associazionemaggiolina.it amici e compilino il modulo per entrare nel sito amici in quanto sostenitori quindi grazie ragazzi Leandro mi aveva chiesto qualcosa di copilot riguardo al nuovo programma di intelligenza artificiale di Microsoft ah ok il nome copilot non mi diceva niente non ne ho la minima idea Leandro quindi non so darti una risposta Anto dice io non mi fido dello sblocco con il volto uno potrebbe usare una foto o clonare il volto con l'intelligenza artificiale allora diciamo che è meno sicura la foto non credo che funzioni ma è molto meno sicuro quindi vedete un po' voi se usarla o meno Mohamed si può cambiare un televisore smart a un monitor si se intendi se si può usare un televisore smart con un monitor si anche non smart cioè anche i televisori un po' più vecchi si possono usare come monitor lo faccio in un video che forse esce domani quindi vediamo come è venuto devo ancora vederlo Maurizio dice c'è Daniele devo andare ciao Maurizio Anna se mi abbono al canale come funziona il pagamento non sono esperta in queste cose allora guarda Anna se sei ancora qui con noi puoi andare qui associazione maggiolina quindi www.associazionemaggiolina.it www.associazionemaggiolina.it alfabetizzazione digitale qui sotto ci sono due video che mostrano come funzionano il sito amici e gli abbonamenti e come ci si abbona allora il pagamento è periodico quindi la cifra è mensile e viene scalata automaticamente dal metodo di pagamento che abbinate all'abbonamento che di solito è una carta di credito ricaricabile mi raccomando e quindi non c'è da fare niente si può disdire in qualsiasi momento e quindi è semplice da fare tutto sappiate che sarà collegato al vostro account quindi nuvola di google nome dell'account e password quindi per gestirlo per togliere per togliersi per nuvola di google nome dell'account e password se non li avete vi trovate in difficoltà perché anche questa cosa funziona in questa maniera qua e comunque dando un'occhiata al video vedrai che è semplice noi non possiamo intervenire è youtube che fa tutto ma non ci sono problemi in caso di difficoltà ci scrivete qualche dritta ve la diamo però non possiamo fare niente dovrete mettere mano voi direttamente dalla vostra parte a volte capita che qualcuno mi dice ma se ti do la mia password mi guardi assolutamente no ragazzi non offrite la vostra password neanche a persone di vostra fiducia e le persone anche se di vostra fiducia vi dicono di no se fossimo seduti insieme nella stessa stanza vicino al computer ok io mi giro da una parte un attimo e poi guardo le varie cose quindi l'amico vi può aiutare se è lì ma non fatelo a distanza non date i vostri dati perché una volta che li avete dati poi li avete dati e non va bene mai assolutamente alcuni a volte mi chiedono ma l'assistenza a distanza ma guarda ho chiesto la teleassistenza ormai il computer te lo possono aggiustare anche senza venire lì gli ho dato accesso al mio computer ma adesso possono accedere sempre se sono onesti no in sostanza però se poi dopo avergli fatto fare il lavoro tu ti chiedi ma saranno state persone serie saranno persone oneste eccetera non va bene non devi avere quel dubbio lì dopo non devi rivolgerti a loro in partenza cioè se hai risolto il problema ma se poi hai fatto qualcosa e possono aver fatto qualsiasi cosa così come se tu lo porti da un tecnico che te lo ripara poi vai a casa se non hai fiducia in quel tecnico lì e il computer l'ha avuto in mano lui può fare un sacco di cose non è che lo facciano però ragazzi particolarmente quando si cercano cose online eccetera è più probabile magari incappare in qualche danno perché magari il tecnico ce l'hai sotto casa o ce l'hai vai là da lui ma online il dubbio ti può rimanere quindi se pensate di avere un dubbio pensateci prima non dopo perché dopo è tardi il computer è stato maneggiato e per essere rimesso in sicurezza nel caso sia stato è fatto qualcosa va in mano un altro tecnico va azzerato completamente e quindi è tardi in sostanza vediamo poi Anna grazie dice Renata vediamo un po' è andata avanti un po' la chat quindi volevo dare un'ultima occhiata Maurizio Anna Renata dice è entrata su un sito accreditato della pubblica amministrazione con credenziali speed dopo il benvenuto le credenziali restano quelle speed o vanno inventate di nuove allora lo speed nasce per essere lo speed e la CIE carta di identità elettronica nasce per essere un'identità unica invece di avere una password per l'inps una per l'agenzia delle entrate una per il fascicolo sanitario una per tutte le altre cose che ci sono hanno detto a livello statale se vogliamo per la pubblica amministrazione inventiamo un sistema unico sicuro quindi con quello evitiamo di avere 50 password perché lo speed ti fa sempre entrare quindi dove tu ti trovi che puoi entrare con lo speed entri con quello e stop le credenziali sono sempre quelle perché lo speed la CIE eccetera hanno il terzo livello di autenticazione e servono proprio per darti in mano lo strumento per garantirti la sicurezza chi si lamenta che è complicato fa male bisogna solo imparare a usarlo perché serve che sia sicuro poi magari si potrebbe anche fare più facilmente sono d'accordo ma prima impariamo a farlo e poi magari diamo suggerimenti su come sarebbe più facile da farsi finora c'è da un po' non mi sono arrivate all'orecchio problemi con lo speed quindi magari non è facile ma almeno apparentemente funziona e è sicuro allora Ari sta parlando con Francesca Renata grazie Rollino dice buona serata a tutti a mercoledì ciao a tutti grazie mille Daniele siamo ai saluti vediamo se c'è qualche altra domanda Attilio grazie Daniele per l'interessante lezione ciao e buona serata a tutti ok vedo che avete in tanti la cena pronta ragazzi allora se vi siete dimenticati fate in tempo mettere un mi piace adesso al video e basta iscrivetevi al canale se non l'avete fatto abbonatevi al canale se avete voglia di vedere un po' di più del nostro mondo e grazie agli amici delle super chat super sticker super grazie a chi ci sostiene in qualsiasi altro modo grazie grazie infinite e vi ricordo che sabato faremo il video in cui rimettiamo ordine in tutte queste cose ci scriviamo tre cosine magari fatte bene di modo che l'appunto sia veloce da vedere facilmente domani sul canale nuovo video abbonati vediamo quale sarà venerdì nuovo video sabato nuovo video domenica nuovo video quindi insomma vi aspetto tutti i giorni ci vediamo presto ciao ragazzi vado a schiacciare il bottone che mi porterà a finire la diretta e devo fare qua prima ciao buona serata ah no devo prima fare così ok adesso mi sentite forse c'è anche la musica no mi sentite basta e vi saluto di nuovo ciao in ita grazie a tutti Grazie a tutti